Bene, inizia un nuovo video in cui vorrei spiegare bene, passo a passo, come si suona la scala di do, scala armonica di do, sulla tastiera della chitarra. Allora si può suonare in vari modi, innanzitutto parliamo della mano destra, si può suonare con il pollice, quindi io posso suonare ogni corda con il pollice, adesso vi faccio vedere bene, tiriamo giù e facciamo vedere, inquadrimo bene la chitarra. Allora posso suonare così con il pollice, quindi schiaccio la corda, spingo la corda in giù, la lascio andare e poi schiaccio le corde che mi interessano sul manico della chitarra. Se no prendiamo la nostra penna o pletro, Pino Daniele la chiamava la penna, io lo chiamerò il pletro, noi lo chiamiamo pletro e suoniamo con il pletro, la chitarra cambia completamente il suono, se la suoniamo con il pollice o se la suoniamo con il pletro, il pletro fa diventare subito il suono più metallico. Comunque quello che ci interessa a noi adesso è spiegare bene come suonare la scala di do. Allora il do, la nota di do, la troviamo sul terzo tasto, sul terzo tasto, ve la faccio vedere bene, eccola qua, eccolo qui, il terzo tasto, facciamo vedere ancora meglio, ok, il terzo tasto sulla quinta corda, eccolo qua, questo è il mio do, in che mi interessa, guardate il manico è questo qui, eh? Zero tasto, primo tasto, secondo tasto, terzo tasto. Questo è un do, quindi io dovrò fare, la scala è do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Quindi io dovrò suonare il do, il re, adesso li vediamo poi con calma e potrei utilizzare le quattro dita, quindi il mio bellissimo indice, il medio, l'anulare e il mignolo, oppure per chi inizia proprio da zero, solitamente usare le quattro dita è un pochettino difficile, allora possiamo utilizzare nel caso mai tre, ok? Quindi possiamo utilizzare l'indice, il medio, scusate, l'indice, l'anulare e il medio, ok? Allora, il do, poi dobbiamo ricordarci che c'è uno spazio fra il do e il re, sempre, tra uno spazio fra il do e il re, quindi il re sarà dopo due, quindi sarà al quinto tasto, questo è il quinto tasto, vedete? Questo, dove c'è il puntino, il quinto tasto, ok? Do, re, il mi, allora diciamo bene dove sono, do, quinta corda, terzo tasto, re, quinta corda, quinto tasto, oppure potremmo anche utilizzare la corda vuoto sottostante, perché la corda vuoto sottostante è un re, quindi potremmo utilizzare do, il re, corda vuoto sottostante, la quarta, poi sulla quarta avremo il mi, sul secondo tasto, poi avremo il fa sul secondo tasto, sempre sulla quarta corda, poi avremo il sol sulla terza corda a vuoto, oppure sulla quinta, la quinta, sulla quinta della, sulla quarta corda al quinto tasto, ecco, qui avremo il sol, quindi faremo do, re, mi, fa, stol, oppure il sol, la terza a vuoto, sentito uguale, poi avremo il la sul secondo tasto, secondo tasto, terza corda, quarto tasto, sempre sulla terza corda, e poi potremmo andare a cercarci il do piccolo qua sulla seconda, primo tasto, vedete, primo tasto, eccolo qua, il primo tasto, questo è un do, che è all'ottava più acuta di questo, di questo do qua, oppure sulla terza corda avremo il do, in quinta, terza corda in quinta, sul quinto capo tasto, quindi la mia scala sarà fatta così, la suono con il plettro, se la faccio con quattro dita, usando anche il mignolo, che diventerà più professionale e migliore, ok, e poi possiamo, possiamo trovare a farla rincontrare, farla al contrario, possiamo utilizzare anche le corde a vuoto, le corde libere, quindi possiamo fare, do, re, mi, fa, sol, la, si, abbiamo la seconda a vuoto, e il do piccolino, sul primo tasto, poi potremmo anche utilizzare un'altra posizione, che è sull'ottavo tasto, qui i tasti sono più piccolini, e magari ci aiutano anche un po' di più, potremmo utilizzare anche questa parte del manico qui, siamo sull'ottavo, sull'ottavo capo tasto, sulla sesta corda, ottavo, decimo, settimo, contrassegnato da un puntino, vedete che c'è il puntino sul settimo, quindi ottavo, decimo, sulla sesta, settimo, ottavo di nuovo, decimo, settimo, tra l'ottavo e il nono, nono, ecco qua, e decimo, se la facciamo con quattro dita, poi se vogliamo spingerci oltre, ricordate sempre, ricordate sempre, che tra il do e il re c'è un tono, quindi c'è uno spazio in mezzo, tra il re e il mi c'è un tono, c'è uno spazio in mezzo, tra il mi e il fa non c'è niente, quindi il mi e il fa sono attaccati, tra il fa e il sol c'è un tono, quindi uno spazio in mezzo, tra il sol e il la c'è un tono, e quindi ci sarà uno spazio in mezzo, tra il la e il si ci sarà uno spazio in mezzo, tra il si e il do non ci sarà lo spazio in mezzo, facciamola a ritroso, ok, se vogliamo poi spostarci ancora in un'altra tonalità, possiamo eseguire questa scala all'ottava più acuta, quindi un piano più sopra, diciamo così, come se fosse un condominio, siamo saliti al piano di sopra e suoniamo il do che c'è sulla quinta posizione, il quinto tasto, sulla terza corda, è uguale al primo, è uguale alla seconda, sulla seconda corda del primo tasto, quindi, sentite che sono uguali, eccolo qua, do, do, un tasto, due capotasti, do, re, sotto al do avremo il mi, tra il mi e il fa niente, non c'è nulla, tra il fa e il sol ci sono, di nuovo, uno spazio, vedete? questo è un la sulla quinta corda, scusate, sul quinto tasto, di nuovo un, uno, uno spazio, eccoci qua, bene, dovete ricordare, tono, tra il do e il re, un tono, tra il tra, possiamo anche farlo tutto sulla stessa corda, partiamo di qua, possiamo farlo anche tutto sulla stessa corda, quindi, tono, re, quindi c'è un tono tra il do e il re, tono, tono, quindi tra il ro e il re c'è un tono, tra il re e il mi c'è un tono, tra il mi e il fa c'è semitono, quindi, un tono, tra il fa e il sol, tra il sol e il la un tono, tra il la e il si un tono, tra il si e il do e il mezzo tono, eccoci qui, benissimo, abbiamo detto tutto, bene, ricordatevi, potremmo anche farlo tutta su una corda, ma non è molto professionale, non è molto bello, l'esercizio è proprio, l'esercizio sta proprio in questo, nell'utilizzare le dita, e fare quindi apprendimento, muovendo le dita, e il pletro, o il pollice, potrete anche usare il pollice, per suonare sulla chitarra, chi vuole usa il pollice, chi vuole usa il pletro, il pollice forse è più, il pollice forse dà più il contatto con la chitarra, dà più il contatto con, il pletro ci rimane un certo distanziamento, tra l'uso della mano, tra l'uso del contatto del pollice della mano, che con il pletro, forse il contatto più umano, diciamo con lo strumento, è fatto con il pollice, però abbiamo un suono diverso, e poi non abbiamo la velocità, invece con il pletro, se dobbiamo fare una cosa di questo genere, non fare una cosa del genere, con il pollice, non ce l'abbiamo, ok? Bene, abbiamo ancora, facciamo ancora, facciamo un colore di passo su questa posizione qua, ottava, ottavo, decimo, settimo, ottavo, decimo, settimo, ottavo, no, nono, scusate, nono, decimo, ottavo, ottavo, decimo, settimo, ottavo, decimo, settimo, ottavo, decimo, settimo, ottavo, decimo, settimo, nono, e decimo. Eccoci qua, bene, direi che, mi sembra di aver spiegato bene tutto, se avete dei problemi, scrivetemi, e ricordatevi sempre, di fare l'iscrizione al mio canale, anzi, vi ringrazio molto di supportare il mio canale, fate l'iscrizione al canale, ricordatevi di attivare la campanella, e andate a vedere sempre sulle descrizioni dei video, perché ogni tanto scrivo anche qualcosa sulla descrizione del video, magari scrivo qualche cosa di utile, che vi potrebbe poi interessare, ho imparato adesso a mettere anche dei link, con i link vi posso magari mandare a poter scaricare dei testi delle canzoni, oppure in questo caso vi potrò mettere la scala armonica nota per nota, e magari la scala anche quella armonica con i diesis e con i bemolle, scritti in particolare. Scusatevi, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi, l'iscrizione. Ok, ciao a tutti, e grazie.